Musica Tutti ragazzi è Jflex che vi parla Oggi siamo nel terzo episodio della The Venture Craft Oggi in nostra compagnia c'è Brazzaville Ciao raga In descrizione troverete tutti i link degli altri partecipanti alla serie Mi raccomando passate ai loro canali per vedere le loro visuali e quello che stanno combinando loro Ed oggi in questo episodio andiamo a fare la farm di zombie e di... Dronead Esatto, è meglio che gli ho fatto dire a lui perché io non mi ricordavo neanche come si chiamavano Quindi facciamo la doppia farm e così prendiamo tanti tridenti Esatto E infatti ragazzi stiamo facendo questa alleanza perché c'è ragazzi C'è Kree e Trish che stanno parando tantissimo Però non glielo dite Noi ragazzi li abbiamo scoperti e quindi ci stiamo alleando anche tra di noi Giusto? Io invece sto facendo doppio gioco con tutti perché mi sto dando piano con tutti Ah e allora non va bene se fai il doppio gioco Eh non ci siamo Ragazzi scusate me l'ho dimenticato di farvi vedere un'altra cosa Io praticamente sto iniziando ad ampliarmi in questa pianura Vi spiego anche il motivo perché io ok difendo il villaggio, ci commercio e tutto Ovviamente modificherò le mura, farò più bellino Ma non ho intenzione di farmi tutta la serie con dei deficienti Quindi io qui sto iniziando a fare una zona tutta mia Qui infatti ho iniziato a fare la farm di bacche che ovviamente continuerò E ce la ingrandirò più che altro E qui poi inizierò a farmi la casa e il magazzino e anche altre cose Siamo sempre vicinissimi al villaggio Però non siamo dentro il villaggio E questo già è molto importante almeno ci liberiamo la testa dalle teste di naso Ok ragazzi sono arrivato da Brazzaville e come vedete ci dà l'eroe del villaggio Perché praticamente Brazzaville ha fatto il raid Ce li hanno attacchiati il villaggio Quindi lui difendendo il villaggio gli hanno dato l'eroe del villaggio Io non so perché ma anch'io Prima c'è un'armatura in ferro e me l'hanno spaccato No, l'effetto te lo dà perché io ho difeso in questo villaggio Quindi l'intero villaggio è dall'effetto Non alzo l'ingolo player ma tutti quelli si avvicinano qui Quindi se te vai che sono dal villaggio e questo qui Della coltivazione Vai a cliccare qua da un po' all'effetto Tutto quello che ti dà Vai pure? C'è anche scappi? No, no, apri proprio Vabbè c'è i vicini Vedi lì quanto ti ti mezza la roba 16 di grano per uno smeraldo? Sì Ma tu se lo sai tu me lo potevo portare Oppure 13 anguini per uno smeraldo Vabbè tornerò, tornerò tranquillo Pensate c'è un villager che mi dà Per uno di grano No, no per uno di grano Per uno di argilla Mi dà due smeraldi Cazzo dovete vedere questo villager che è bravo Gli ha fatto qua la farm E gli continua a fare un bordello di cose Mi ha sbagliato, era quale più mezzo Liscio Da questo povero il casino che ho fatto Non ho scelto di giù E' combinato da sotto Allora bisogna allargare 4 di... Per ogni lato Ho fatto un tridente fortissimo Aspettiamo prima di prenderlo Facciamolo per il miccio Non si fa testo croce Ho capito Prendi la monetina Ok 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 Quanto è di altezza? Aspetta 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 di qua ancora è 3 Di un altro deve scavare 3,4 Ok Dividi il... Con l'acqua fai in due corsi Mi ha metà zombie vada di qua Metà zombie vada da quattro posto Ok Secondo me ti fai affogare Nell'acqua Non togli di No 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 Spiritoso Spiritoso Giova Metti l'acqua L'hai messa Non l'hai messa Non l'hai messa Non l'hai messa No No Liscio Attenzione vediamo Brazzer che ha le presse con uno zombie Vince incredibilmente e Brazzer verrà al di fuori delle aspettative La sua vittoria Ok La prima fase l'abbiamo fatta Facciamo la prova e vedete se funziona Arriva il mob No no Scende Arriva E ti attacca Se poi ti uccide Ragazzi intanto andiamo alla ricerca Uh ferdo che te lo sei dimenticato No ragazzi Lo prendiamo Ma qua Oh vieni fuori Vediamo se troviamo anche dei diamanti Che sto cacciugino Eh caro Altro ferdo Non l'aveva visto No L'ho lasciato Ah me l'hai lasciato a me Grazie No Guarda quanto feroce è raga E che dopo Dopo questo Visto che comunque Posso figliarmi l'ultimo video Che mi manca Posso farmi iron farm Lo sai che l'iron farm non funziona vicino Uh uno smeraldo c'era pure Cosa Eh eh No ti giuro Poi lo vedi dal video Vogliate che lo scavi Vieni fuori giola Vediamo qualche altra cosa di buono No non c'è nient'altro Vieni qua Uh peccato C'era già una cartella in table Eh ragazzi Visto che il brother L'ha fatto già il cartello Senza aspettare i miei tempi tecnici E protesta Faccio anche altri tre cartelli Va bene Oh senti se li vuoi fatti i tre cartelli Li farei pure Vabbè ma ormai li hai fatti tu Non c'è bisogno Uno qui E i zombie caderno lì Vabbè ma l'altro già non li hai fatti tu Sì l'ho fatta anch'io E' a posto allora Quindi non li graffito più Vabbè se vuoi vado un attimo nella base 2 Ti prendo un po' di ferro No Eh io non ho più Allora vieni qui dove sono io vai Eh sto arrivando Vedete se mi è fottuto qualcosa Stanno arrivando Quindi qui c'è andrà il vetro Ah vediamo Ok i primi zombie sono qui Poi dovremmo fare la farm anti i baby zombie Ciao Pinocchio Ciao anche tu Pinocchio 2 Dove siete? Eh sono sopra Sto salutando Ciao Pinocchio 4 Non c'è il Pinocchio 5 Si attende Pinocchio 5 Eccolo Pinocchio 5 Arriva insieme a Pinocchio 6 E Pinocchio 7 Sta arrivando anche il Pinocchio 8 Al binario 22 Vabbè comunque qui arrivano gli zombie che poi arrivano qua sotto e i drone ed I drone sono qui Guarda vieni Ora vieni Ora vieni Ora vieni Insomma Affugare E ti metti qui shiftato a metà scala Beh Vieni piano Mi vieni che un tuoi pigliano La pompa dovrebbe pigliare danno Ecco sta un piano danno Ma come fanno ad entrare qua dentro in automatico? No qui c'è la botola Quando te vuoi la apri Ah ok E vedete si spingeranno Ma come è possibile che non affogano Tolliti Tolliti Ecco c'è uno diventato i drone ed è senza rumore Oddio Sono tutti i drone ed Leva di Magia Giova 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 Sali su Sali su Sali su Soperta che sto ammazzando S S S Quanto c'è la vede il netto? Ora Dopo questa Mi devi ripagare Oh no no Poi ovviamente mettiamo il verro Chiudiamo E così non spawnano più Quindi a farm di zombie Barra Drowned E E nulla ragazzi Mi raccomando Lasciate un pollicione in su Se questo video vi è piaciuto Mi raccomando Se non siete iscritti al canale Iscrivetevi E niente Divex Brazzaville Tutto Bella Lui non saluta Perché è maleducato Ah ok Ciao 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 Ciao